Bella! Bella a tutte ragazze, io sono Anima! Ah no, ho sbagliato! Bella a tutte ragazze, io sono... No, ho sbagliato tranquillo... Buongiorno scimi e scimmiette, io sono Destiny e oggi siamo in un nuovo video di Pixel Gun 3D Ah, questa volta ho il tempo di parlare anche Siamo tornati pochi a troia! Motherfatter! E' un piccolo mondo... E' un piccolo mondo! E' un piccolo mondo! Caraca, figlio! Non, non ho capito! Ok, qua... Open... Unlock... Insert... Ehm... Ehm... Portiamo questo! Ok, iniziamo su del primo! Equipe! 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 Equipe... percorsi di 3 mila e 18 andiamo ci credo che abbia l'amica cosa a pancola allora in presenza di cani smarriti eccolo qua davanti un orso orso bianco fa questo questo è orso bianco di cui l'orita minica ecco io piuttosto io così io è così che piscio piuttosto come un lanciafiamme cagare nip e abbiamo perso e vabbè vabbè grazie e ha fatto che tronze non vai alla polizia non mi interessa Harry Potter ma andiamo a pencesta che inglese e no 5 coins per perché una peda questa questa zombie zombie uccello pappagallo ecco la nuke town è una delle mie preferite ma è anche black ops 2 dove sono tutti vai a vare a fare cecchino e si lo pare è capito oh merda avevo quel porco di animale c'avevo un animale dietro di me beh scusami cosa 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 non mi ero incastrato non sapevo niente mi vaffanculo va mitra cazzo di pazzucca sono tornata perché troia male a fare ah ma quello vola sembrava non so chi sembrava non so chi mi ha rubato il cuore stronti vi c'è una famiglia non ci sembrava non ci sembrava non ci sembrava ma non c'è una famiglia ma non ho capito un cazzo però andiamo con questo che sembra forte con il cazzo di pazzucca coniglio è una famiglia è un cazzo di pazzucca che è una famiglia è un cazzo di pazzucca e levatevi dai coglioni non mi interessa se siete credo forte no non vale non vale non è un'ottima scusa ma ci vai a panculo non so come si usa non abbiamo fatto nemmeno uno no no la vai cos'è oh mio dio cosa boh cos'è cos'è boh non l'ho neanche usato questo cechino e neanche questa bazzucca no no ho sbagliato sbagliato mamma capra capra ignorante ignorante vesti no non la voglio c'è pazzes no Grazie a tutti. Ha il coglione che dolore. Uh che headshot. Ah no il mio amico. Avevo anche lo scudo però. Ah no. 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 Ehi! con un caldo solo mi uccide ma dai dai ma è capo che per ucciderlo no dove è andato perché sono un genio è bello questo e niente perderemo anche questa battaglia no no ancora tu no far sì a far i vostri no è no 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 ok 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 è morti ok 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 chi è questo non 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 ho arma è perché non ho finito fino a questo animale altre batterie ce l'ho ancora tanta l'idea nel cielo c'è tipo vita che la musica è infinita per tutti un star trooper sono intelligente mi sono suicidato un matto ma come? non 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 disturbate ma come si va a cagare no non vanno in quella nuvola ma cosa era? non 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 sono morto di granata è di costruire Grazie. Grazie. Ciao. Ecco qua. Così l'ordico non lo vede nessuno. No. Equip. Ah, aveva il cinghiera. E te, come fa? Ah. Ancora il R52. Ho dei ricordi spiacevoli su di quella. No, no, ho sbagliato, sono scemo. Sono scemo. Tutto scemo. Il mio desiderio è avere mira. Non so però dove arrivano i nemici. Questo è tipo un cubo di Rubik. Ma dov'è? Ha diventato invisibile. Pas pan cool. Buongiorno. Come. fumo di merda 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 fumo di merda